Vai pro calendario uomo con il noto! 12 fantastici ragazzi per 12 mesi! Che il calendario uomo 2008 di Motherland sia dato all'estate! Dovete sapere che primavera di gennaio reca sempre un grande buio! Complimenti a Michele Bove, 18 anni di ballata, che si è aggiudicato il mese di gennaio! È febbraio! I modelli nati sotto il segno dell'acquario sono infedeli ma ironici! Non vanno mai due volte dallo stesso parrucchiere! Un applauso a Alessandro Cavaliere, 18 anni di Napoli, che ha conquistato il mese di febbraio! Marzo, marzo è verde! Verde, figlio di due colori primari! Blu, razionalità, giallo e pettino! Uniti, formano il verde che è il colore del solito! Tags on the moon and the TV is on But always ship with me Congratulazioni a Raffaele Moncada, 22 anni di breccia, che si è guadagnato il mese di marzo! Dovete sapere che per tutto aprire non ti scoprire! Complimenti a Aiko Trinci, 19 anni di mirandola, che si è aggiudicato il mese di aprile! Maggio! I modelli nati sotto il segno del toro sono bugiardi e farfalloni, ma attenti a non volare da un vestito all'altro, potreste rimanere in mutante! Un applauso a Filippo Saccomandi, 20 anni di Lido Adriano, che ha conquistato il mese di maggio! Giugno è giallo, colore dell'esplosione eclettica, colore della follia e della divinità! Vi ricordo il piccolo aneddoto, il giallo in attività è il colore, sì della follia, ma anche delle prostitute! Congratulazioni a Danzaveno di Scalzo, 22 anni di vecchiano, che si è guadagnato il mese di giugno! Dovete sapere che di luglio un temporale dura poco e non fa male! Complimenti a Riccardo Grazzi, 21 anni di lanuglio, che si è aggiudicato il mese di luglio! Agosto! I modelli nati sotto il segno del leone sono megalomani e vanitosi! Siete fissati con la vostra criniera, ma non interessa a nessuno! Sparatevi col fogo! Un applauso a Francesco Meucci, 19 anni di San Giovanni alla Vena, che ha conquistato il mese di agosto! Settembre, settembre, settembre è colore verde smaltato, e non l'orato delle vostre criniera! È un colore di forza, di velocità e di comando, formato da tre colori importanti! Il blu, il giallo e le gocce di turchese che li affogliano di molto! Congratulazioni a Pietro Di Tone, 21 anni di Siena, che si è guadagnato il mese di settembre! Dovete sapere che lo tutto in cantina, sera e mattina! Complimenti a Matteo Diamante, che diventa ufficiamente il mese di ottobre nel calendario uomo di modale! Vai, novembre! I modelli nasi sotto il segno dello scorpione sono erotici, ma meno freghisti! Guardate come siete vestiti! L'unico negozio dove è stato andato ultimamente è un sexy shop! Un applauso a Gianni Cuglielmo, 22 anni di Rovigo, che ha conquistato il mese di novembre! Dicembre è blu elettrico, colore di briossità, iperattività e frenesia! Se tu mai chiesti chi è l'uomo più frenetico del mondo? Superman! Con la sua tutina blu elettrico! Congratulazioni a Mustapha Elmotti, 23 anni di medicina, che si è guadagnato il mese di dicembre! Così anche il calendario uomo 2008 di modale è completo! E adesso qualche consiglio del nostro sposo! Grazie a tutti!